Daniele De Cicco di Montalto Uffugo, Teresa Ambrosi di Castiglione Cosentino, Francesco Salvatore Magnelli e Antonio Caruso di Cosenza, Giuseppe Campana di Longobucco, Giovanni Gervino di Lappano e infine Gerardo Sena di Luzzi sono i nomi dei sette dipendenti regionali impiegati presso la sede di Via Cesare Gabriele a Cosenza accusati di truffa ai danni di ente pubblico. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza ed è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale Bruzio attraverso una minuziosa attività di appostamento, di osservazione e di controllo dove sono state accertate le condotte illecite e consistenti dei sette dipendenti regionali sia nel far attestare falsamente la propria presenza in servizio sia nell'allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione. L'attività investigativa condotta anche attraverso l'installazione di microtelecamere opportunamente occultate poste a presidio degli ingressi della struttura e del locale adibito a timbratura dei badge nonché pedinamenti e osservazioni occulte ha consentito di rilevare gli effettivi comportamenti dei sette dipendenti regionali infedeli che omettendo la timbratura o cedendo il proprio badge ad altri colleghi riuscivano a risultare presenti al posto di lavoro mentre in realtà si allontanavano illegittimamente. Infatti i sette impiegati coinvolti nell'inchiesta attraverso ingressi tardivi ed arbitrari allontanamenti a piedi o in auto si assentavano durante l'orario di lavoro senza autorizzazione per dedicarsi ad attività di carattere privato quali soste prolungate al bar o a casa oppure per fare acquisti presso vari esercizi commerciali.